Consideriamo circuiti semplici in corrente alternata. Osserveremo allora il segnale sinusoidale della corrente. In questo modo abbiamo bisogno di una piccola base su cui collocheremo dei componenti, ma prima di tutto abbiamo bisogno di un generatore di segnale sinusoidale. Possiamo usare un semplice cellulare con un'applicazione che genera suoni di varia frequenza. Ascoltiamo per esempio come sia possibile generare varie frequenze. Variamo la frequenza. Ora possiamo raccogliere questo segnale inserendolo direttamente nella presa microfonica del computer e osservandolo in monitor e vedere come è possibile innanzitutto misurare il periodo facilmente. Si tratta di 10 millesimi di secondo, quindi la frequenza è 100 oscillazioni al secondo. Possiamo simulare questa situazione disegnando il grafico di seno di x, assumendo per x il tempo che scorre, e accorgendoci che il periodo di base vale 6,28. Sarà sufficiente moltiplicare allora per 2π e ottenere un periodo che vale 1. oppure inserire addirittura il valore della frequenza nell'argomento e accorgerci che aumentando la frequenza diminuisce il periodo e quindi abbiamo trovato un modo per rappresentare queste funzioni e capirne il significato. Se riconsideriamo la raccolta dei nostri dati, ci accorgiamo che aumentando la frequenza si impacchetta questo grafico, eccoci fermiamo qui, e quindi è possibile ogni volta valutare il periodo e la frequenza. Ma che significato ha tutto questo? Possiamo usare un modello meccanico avvalendoci dei fasori rotanti e andiamo a costruire questo modello mettendo in rotazione un vettore. Possiamo disegnare un vettore su un disco e metterlo in lenta rotazione in senso anti-orario. Convenzionalmente l'angolo rispetto all'orizzontale crescerà in senso anti-orario. Filmeremo questo fasore rotante con un cellulare e potremo acquisire il video per poterlo analizzare con un tracker. Ecco l'acquisizione del video. Ora possiamo vedere come si comporta il disco che ruota man mano che ogni fotogramma viene registrato nella punta del vettore in modo che le componenti X e Y vengano riportate in grafico. A noi interessa una delle due componenti, convenzionalmente si sceglie la componente X ma possiamo scegliere anche Y e utilizzeremo questo modello del fasore rotante interessandoci unicamente alla proiezione sull'asse X. Che cosa ce ne facciamo di tutto questo? Innanzitutto possiamo comprendere il significato dell'argomento della funzione sinusoidale andando a considerare il rapporto tra la frequenza e la velocità angolare. Se la frequenza è f, cioè quanti giri compie il fasore ogni secondo, possiamo interrogarci anche su quanta strada percorre la punta del fasore. Noi sappiamo che un giro completo corrisponde al percorso di 6,28 raggi. Se la frequenza per esempio è 100, cioè 100 giri al secondo, noi sappiamo che ogni secondo la punta del fasore percorrerà 628 raggi. Chiameremo questa quantità omega oppure 2πf e questa sarà la pulsazione che verrà a far parte dell'argomento della sinusoide che utilizzeremo per lo studio delle correnti alternate. Grazie.